Poggi si possono fare il comodamento in 90 secondi, ci sono persone diverse, vai, corto, 0-1, 1-2, 2-3, occhio che fanno molto a filo rete, ok, 3-4, controlla 2 metri dell'attività della riga, questa è perfezione, 5-6, 6-7, 7-8, movimento perfetto, 8-9, 9-10, 10-11, no, 11-12, se non lo sai è inutile che ne stia parlando adesso, 12-13 perfezione a tutti, forte, non te la posso dare, 12-14, non te lo far scappare ancora, 12-15, ora ci siamo, 13-16, 14-17, 15-18, ho che non smanacciare la palla, 16-19, bellissimo, va benissimo, 17-20, bravissimo, 18-21, 19-22, ho che non fanno scappare, 19-23 ancora, 20-24, 21-25, cambia. A causa della bravura di Angelini mi vengono i video troppo brevi, perché 53 secondi, adesso per 30 secondi, 1-2, 2-3, perfezione assoluta, 3-4, 5-6, 7-8, 8-8, 8-8, 8-9, 8-9, 8-9, 8-9, 8-9, 9-11, 9-11, 10-11, 10-12, 11-13, 13-14, 14-15, 14-15, 14-15, 15-16, 16, 17 17, 18 17, 19 18, 20 18, 21 19, 22 20, 23 21, 24